moto sport report questa mattina abbiamo parlato di moto gp adesso il turno del vrc mondiale rally e quindi cambiamo interlocutore e passiamo da matteo nunez a giacomo rauli il nostro esperto allora un rally del portogallo molto molto interessante molto bello ma vinto ancora da otanac quindi la toyota ha centrato la seconda vittoria consecutiva sempre con lo stesso pilota che si rilancia nel mondiale adesso secondo a due punti da oggi in una gara che lui ha dominato ma è stata molto molto interessante poi per varie vicissitudini che hanno interessato anche lo stesso otanac perché nonostante abbia avuto il passo migliore per tutta la gara ha avuto anche un paio di inconvenienti che però non lo hanno spaventato ed è riuscito comunque a vincere la gara arrivando addirittura a prendere tre punti nella power stage quindi un percorso quasi netto diciamo da parte dell'estone ecco tu lo avevi detto io ero più polemico con te dicendo che nei percorsi tortuosi la toyota sarebbe venuta fuori e così è stato e così è stato sì abbiamo visto che il motore e la trazione della yaris hanno fatto la differenza nelle prove più tortuose quindi diciamo con i tornanti e sul fondo sabbioso della di molte speciali del rally del portogallo ha fatto la differenza lo abbiamo visto con tanac ma lo abbiamo visto anche con chris mick e con gli arimati latvala quindi non è una questione di pilota ma è chiaramente una questione di mezzo meccanico in questo caso la yaris si sta confermando la vettura numero uno dell'otto ecco neville rientra dopo il brutto incidente con un secondo posto probabilmente conta più per lui è utile a cancellare i postumi del brutto botto e forse non serve molto la hyundai in questa fase ma in realtà serve anche il team comunque partiamo da neville nel senso che thierry il giovedì aveva affermato di non avere paura di non avere i postumi dell'incidente in realtà nella prima nelle prime due speciali lo ha ammesso a fine giornata ha avuto paura cioè ha rallentato ha avuto un passo molto più lento di quello che avrebbe potuto fare ecco ricordiamo cosa era successo si ha fatto un bruttissimo incidente a rally del cile nella prova speciale 8 in cui è capottato più volte per una nota errata quindi è stato un problema di dittatura di note nelle ricognizioni ha fatto un bruttissimo incidente da cui è uscito fortunatamente il leso ma col morale sotto i tacchi si può dire anche perché ha perso in quell'occasione la leadership del mondiale invece adesso si ritrova a dieci punti dal leader del mondiale che è rimasto sebastiano g e ha fatto una grande gara perché era decimo alla fine della terza speciale da decimo è passato diciamo a scalato la classifica salendo in seconda posizione grazie per merito suo ma anche per merito dei giochi di squadra di hyundai ecco lì è nata una polemica con ogé che ha concluso la gara al quarto posto dimostrando che la citron in certe condizioni non è ancora al top e bisogna lavorarci ma ogé ha cominciato a usare un'arma tattica che non ha mai usato da un punto di vista della guerra psicologica a livello mezzo stampa che è successo la dialettica è successo che alla fine della gara in conferenza stampa piloti c'erano i primi tre quindi tanac neville e ogé ogé ha puntato il dito contro hyundai perché secondo sue fonti testuali parole ha saputo che hyundai avrebbe pensato di fermare danni sordo in prova nell'ultima prova per farlo ripartire davanti a chris mick e quindi alzargli il polverone davanti e rallentarlo cercare di rallentarlo ha puntato il dito dicendo che sono contro la hyundai dicendo che sono tattiche meschine usato per queste parole però il regolamento va detto non vieta una cosa del genere sì io sono dell'idea che quando si gioca un mondiale le regole devono essere quelle rispettate non esiste l'etica del gesto sportivo purtroppo però bisogna ammettere che hyundai la manovra l'ha fatta esattamente come il team di ogé l'anno scorso vale a dire la ford faceva in aiuto del francese quindi non facciamo troppo le verginelle sì in più occasioni lo scorso anno abbiamo visto timo sunin e nel fine van gli ex compagni squadra fermarsi più volte ritardare prendere anche dei minuti di penalità per permettere a ogé di prendere quei due tre anche quattro punti in più e che poi in fin dei conti quando se andiamo a scorrere la classifica dello scorso anno sono stati fondamentali perché se oggi non avesse preso quei punti probabilmente tanac avrebbe vinto il titolo mondiale l'anno scorso quindi è stato fondamentale questo di squadra ad amo come ha liquidato queste accuse che poi è il direttore tecnico di e non solo di hyundai motorsport dichiarazioni di basso livello e si è fermato si è fermato qui il direttore ad amo va detto che appunto io in questo caso mi sento di stare con lui nel senso che sono dichiarazioni molto pesanti però qualora hyundai avesse fatto realmente quello che ha detto ogé il regolamento non avrebbe punito il team perché il regolamento parla chiaro non c'è nessuna penalità in per queste cose quindi guerra psicologica è normale quando c'è una fase di mondiale aperto e dove c'è una battaglia dove non contano solo i contenuti tecnici esatto esatto quindi io penso che comunque vedremo tante altre cose queste situazioni nel corso della stagione non sarei stupito di rivedere hyundai che fa così citroen che risponde per le rime e probabilmente le polemiche sorgeranno fino alla fine questo è un campionato molto tirato forse addirittura più tirato l'anno scorso sorge un gran polverone nella polvere del portogallo e quindi poi anzi poi proseguiremo con la sardegna fra due settimane quindi polvere sia dunque l'altro aspetto interessante di questa gara portoghese è che ha debuttato la scoda fabia evo e subito ha dato una smazzolata a tutti quanti esatto ha vinto una domanda e allora la famosa volkswagen polo che doveva essere il punto di riferimento arriva il marchio meno prestigioso e bam rischia subito di cadere nel dimenticatoio ricordiamo che le r5 quindi le vetture che corrono nel vrc2 sono fatte apposta per essere vendute eppure semplice business quindi chi ha la macchina migliore in teoria ha insomma ha in mano un tesoro diciamo un grande mercato a livello mondiale quindi sono grandi numeri sono grandi numeri non è caso ad esempio msport il team che fa il vrc finanzia il proprio programma vrc grazie alle vendite che fa con la fiesta tra l'altro fra poco fa l'esordio anche la nuova fiesta sarà interessante vederlo e quindi scoda ha dato un'ammazzata incredibile a questo mercato perché la fabia evo ha debuttato nello shakedown facendo primo e secondo tempo di speciale però sai lo shakedown c'è chi si tiene un po di margine non prenderì sta di fatto che subito nelle prime speciali sia rovanpera che janko pezzi hanno subito fatto il vuoto con le scoda fabia r5 evo l'unico a tenere il passo va detto che è stato le christian baby proprio con l'apolo però l'apolo ha ancora un grosso problema di affidabilità perché nella giornata di sabato ha preso fuoco parliamo di niente no è più che altro è un grosso problema perché non è la prima volta che succede e questo diciamo questo principio d'incendio non è dovuto a un incidente il pilota si è fermato proprio perché sentiva odore di bruciato si ha un'idea di quale sia la causa che innesca questo principio d'incendio non ancora però penso che anzi direi che a wolfsburg stanno stanno lavorando per cercare di ovviare questo problema che è enorme e l'altro problema enorme che è arrivata una macchina più prestazionale e più affidabile giacomo allora adesso porgiamo lo sguardo avanti perché arriva un appuntamento importante invitiamo i nostri lettori a essere protagonisti nel senso che ci sarà ovviamente il rally di sardegna rally d'italia sarà l'ottavo appuntamento di questo mondiale molto aperto invitiamo gli appassionati della polvere a essere presenti assolutamente anche perché è uno dei più spettacolari non solo dal punto di vista della gara ma anche dal punto di vista della della location quindi del luogo dei panorami quindi messo tutti insieme è un grande spettacolo in più è un fondo sterrato come quello da sardegna non c'è da nessun'altra parte e va detto ogé neville e tanac hanno sempre fatto grandissime prestazioni in sardegna quindi secondo me è una grande occasione questa per andare a vedere uno spettacolo molto tirato è un probabilmente il mondiale fia più tirato al momento però te hai parlato di tre grazie sono i primi tre del mondiale facile sono capaci di dirlo anch'io che sono un pistaiolo no sbilanciati un po mi sbilancio direi che da quello che ha fatto vedere daniel sordo in questa gara è stato molto interessante potrebbe essere la vera sorpresa se riuscirà a ripetere quello che ha fatto vedere in questa gara fermata solo da un problema tecnico ma sordo era l'unico in grado di dare veramente fastidio a tanac nelle prime speciali di venerdì quindi stiamo parlando di hyundai di hyundai sì perché i percorsi della sardegna sono molto molto favorevoli alle i20 come abbiamo già visto gli anni scorsi in cui neville ha trionfato per due volte negli ultimi negli ultimi tre anni quindi sordo secondo me data anche la sua posizione di partenza favorevole può avere una grande occasione e poi dei primi tre io penso che sia proprio neville a poter fare una grande gara vi aspettiamo sulla sulla strada grazie di aver ascoltato il nostro motorsport report dedicato al vrc ciao grazie a tutti grazie a tutti